Ciao, questo è il nostro primo video referenziale. Oggi ti voglio parlare dei soldi stracci. Mi avrei già sentito parlare e mi aggiungo brevemente di cosa si tratta. Un soggetto creditore è un soggetto debitore. Quando? Quando il debitore non è più in grado di demorare i propri debiti. Può essere un privato o comunque un piccolo imprenditore che ha garantito con i propri beni personali un finanziamento alla propria azienda. Tutto questo ti permette di togliere i miglioramenti, togliere la casa dall'asta, vendere il libero mercato, cancellazione dalla lista dei cattivi imparatori, possibilità di finanziarti nuovamente nel giro di 2-3 anni. Per tutto questo chi ti può rivolgere a un consumente qualificato che puoi trovare presso i nostri uffici oppure contattandoci. Per tutte le altre novità, continua a seguirci. Ti aspettiamo.